Sono stati ospiti del programma televisivo in diretta su TV 2000, due gelesi nell'ambito della rubrica L'albero del bene comune. Si tratta di Giuseppe Laspina del gruppo archeologico Geloi Triskelion e Luciana Vitale del gruppo scout Fabio Rampulla, in rappresentanza di tutte le associazioni che operano all'interno della Casa del Volontariato. Un momento televisivo dunque dedicato alle attività di volontariato svolte dalle numerose associazioni, ciascuna con la propria vocazione, ma tutte a sostegno di una concreta crescita della società gelese. Il canovaccio del format televisivo prevede la possibilità di introdurre in studio una cassetta con oggetti significativi che possano raccontare le attività intorno alle quali discutere. Non poteva mancare nel nostro caso la riproduzione di una lechito sattica a sfondo nero, un reperto archeologico che racconta moltissimo dell'epoca greca di Gela e che ha dato anche occasione a Giuseppe Laspina di spiegare come all'interno della Casa del Volontariato l'inclusione sia uno dei principi fondamentali, tanto da spingere a creare un laboratorio di ceramica pensato per i diversamente abili nell'ambito del progetto Keramos. Alle incalzanti e interessanti domande di approfondimento dei due bravi conduttori, gli ospiti gelesi hanno risposto offrendo un'immagine certamente positiva della città di Gela, raccontandone brevemente la storia e i grandi sforzi che le forze sane della città stanno compiendo per promuovere la risalita dell'immagine della crescita socioculturale della città del Golfo, rappresentata simbolicamente da una piantina. La regia di TV 2000 ha anche mandato in onda un breve filmato con le immagini di una delle più recenti iniziative promosse dalle associazioni della Casa del Volontariato di Gela, cioè la riqualificazione dei bagni greci. Luciana Vitale ha raccontato con grande passione e trasporto la vocazione dello scautismo che, unita ad una grande operosità, rende gli uomini migliori fin dalla tenera età. Riflettori accesi anche sulla vertenza Gela e la grave crisi occupazionale che sta attraversando ormai da un po' di tempo la città. L'epilogo della conversazione in studio è però positivo perché è proprio nei momenti di difficoltà che si ha l'occasione per riscoprire i sentimenti più nobili come quelli custoditi e valorizzati dal volontariato. Un piccolo grande esercito che rema verso un'unica direzione, la rinascita di Gela.